ciao ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi un piccolo video acquisti ho acquistato dal sito resin pro ho approfittato appunto delle spese gratuite ho preso questi due pigmenti che adesso vi mostro sono davvero spettacolari ve li straconsiglio per chi fa resina sono davvero bellissimi ve li mostro aspettate che avrò tutto eccoli qua all'interno c'è sempre il loro brochure allora questo è il primo sono appunto i pigmenti per artisti l'ho preso sia argento e sia e sia bianco argento ve li mostro questi li ho visti da elisabetta marsili infatti è lei che guardate che spettacolo questo è quello appunto bianco stupendo non vedo l'ora di utilizzarlo e questo invece è quello argento aspettate che apro guardate quanti quante sfumature cioè è spettacolare non so se rende con la luce provo a toglierlo un pochino guardate che bello rende tutto spavillante io le adoro dicevo non vedo l'ora di utilizzarli all'interno con la resina infatti adesso sono su in soffitta e andrò a sperimentare e sicuramente andrò a utilizzare anche questi due pigmenti presi appunto dal sito di resin pro niente ragazzi questo era davvero un velocissimo per mostrarvi questi due pigmenti perché vale la pena averli perché sono spettacolari guardate davvero un video breve per mostrarvi queste due bellezze niente non mi dilunghi in ulteriori chiacchiere grazie sempre al sito di resin pro io vi saluto un bacione e alla prossima con nuove creazioni nuovi video nuove cose ciao 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 ciao